Allora, buongiorno, ringrazio molto l'onorevole Dell'AIE e tutti gli autorevoli partecipanti che daranno, credo, oggi un contributo importante a una nuova via, a una via che è esplorata solo da alcuni, come dire, da alcuni innovatori isolati, ma che invece deve diventare una via di sistema, credo. Questo incontro permetterà di confrontare varie esperienze, anche di vedere che altri Paesi hanno già fatto passi avanti notevoli in questa direzione dell'utilizzo della transizione digitale nel settore delle costruzioni. Credo che si inserisca bene all'interno di una politica di confronto, di omogenizzazione delle strategie europee, di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. E quindi si intersica con le politiche che il Governo desidera promuovere e che sta desiderando promuovere, in particolar modo con il recepimento delle direttive europee, come sapete, all'interno del nuovo decreto attuativo del Codice degli Appalti, che racchiuderà il recepimento delle direttive europee e insieme l'applicazione della legge delega che abbiamo approvato. Ma di questo parlerà bene, credo, l'Onorevole Mariani, che è stata una delle principali protagoniste di questo percorso di successo del Codice degli Appalti in Parlamento. Nel Codice degli Appalti è stata inserita la valorizzazione della fase progettuale degli appalti pubblici. Come diciamo spesso, le opere pubbliche in Italia si fanno poco e si fanno male, poco e male, a causa di diversi fattori. Un primo fattore è certamente il fattore della corruzione, come sappiamo, e quindi io sono abbastanza distante da coloro che pensano che un ruolo attivo di ANAC dentro il Codice degli Appalti voglia dire in qualche modo un'anomalia. Non è un'anomalia, l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è un fatto importante, decisivo. Noi abbiamo voluto, questo Governo ha voluto l'autorità anticorruzione perché sa che i costi della corruzione in Italia sono elevatissimi. Ma ovviamente non c'è solo un fatto etico, di vigilanza e così via, ci sono anche fatti più sostanziali, più strutturali. Non c'è un fatto di contingenza, ma c'è un fatto appunto sostanziale dentro al ritardo e alla inefficienza delle opere pubbliche italiane. E una delle cause principali di questo ritardo e questa insufficienza è certamente dovuta alla mancata centralità del progetto. Il progetto è stato, questo era peraltro anche uno degli elementi chiave delle riforme antiche dei lavori pubblici, ma purtroppo poi dimenticate con la sovrapposizione di norme, il progetto deve ritornare a essere centrale. Il progetto di qualità, per questo il nuovo Codice degli Appalti dice che non si può più mandare a gara progetti preliminari. È chiaro che dal progetto preliminare si va e dall'uso del general contractor si nascono moltissimi problemi che è inutile che io oggi stia qui a definire. Quindi la centralità del progetto, ma se la centralità è nel progetto, se una delle chiavi di volta per ritornare a essere un paese normale da un punto di vista delle opere pubbliche è la centralità del progetto, è chiaro che qui va applicata anche la massima innovazione tecnologica. Il progetto deve essere disponibile, deve essere adeguato e come ha ricordato Luigi nella sua introduzione, questa adeguatezza del progetto, questa sua riproducibilità, questa sua rintracciabilità, l'applicazione delle nuove tecnologie permette a questo progetto di diventare anche molto meno oneroso, molto più adatto a essere utilizzato per una spesa prevedibile finalmente, per una spesa che l'amministrazione pubblica può utilizzare e programmare in maniera più adeguata. Quindi dobbiamo valorizzare tutte le tecnologie, dobbiamo valorizzare e avere il coraggio di spingerci in questa direzione, il nuovo decreto attuativo del codice degli appalti andrà in questa direzione, daremo un tempo che riteniamo congruo per l'adattamento, ma però al termine di 12-14 mesi bisogna che ci sia questo adeguamento. Dobbiamo spostare in avanti la sticella in maniera che questo tipo di progettazione in particolare, ma anche tutte le altre applicazioni, non parliamo solo di Building Innovation Modeling, ma parliamo anche di tutte le altre applicazioni tecnologiche. Noi abbiamo avuto un crollo del viadotto Imera sulla 19 Palermo-Cattania che ha fatto notizia e abbiamo scoperto, investigando questa cosa, che poi in realtà noi abbiamo già a disposizione strumenti tecnologici enormi per poter prevenire queste cose e non rincorrerle. Abbiamo a disposizione microsensori che possono essere messi dentro ai piloni, che possono misurare le variazioni di movimento di 2-3 centimetri, abbiamo i sistemi satellitari che ci dicono esattamente dove si muovono e come si muovono i movimenti framonosi in tutto il mondo, abbiamo quindi una serie di tecnologie a disposizione che non stiamo utilizzando. E questo comporta ovviamente una serie di problemi. Si può benissimo monitorare i 200 viadotti dell'A19 attraverso droni, attraverso sensori, anziché pensando a un piano di gruppi di uomini che vanno con le gru a verificare e a misurare. Quindi siamo davvero di fronte a una grande potenzialità che ci invita a essere coraggiosi e che ci invita a essere umili, nel senso di imparare poi a utilizzare questi dati tutti per la protezione del bene pubblico, come dico spesso, le strade, gli edifici. Anche sulla riqualificazione che è una nuova via che noi abbiamo indicato con grande forza. Abbiamo detto alle nostre aziende, ad Anas, a tutte le aziende statali, la cura e la manutenzione sono due elementi principali e l'applicazione delle tecnologie sono elementi principali. Ma diciamo anche che l'altro indirizzo politico è il recupero, il recupero dell'esistente, smettere il consumo di territorio e recuperare il più possibile l'esistente, renderlo efficiente. E quindi questo elemento è un elemento assolutamente in cui le nuove tecnologie potranno dare un elemento essenziale. Diciamo che dobbiamo essere coraggiosi ad applicarle, abbandonare vecchi schemi, abbandonare vecchie vie, essere coraggiosi, ma anche, ed è questo il motivo per cui quando in molti mi hanno sollecitato a introdurre il tema delle nuove tecnologie dentro il codice appalti, io ho risposto positivamente immediatamente, perché mi hanno dimostrato e fatto vedere le grandi potenzialità di questa cosa e io non ero particolarmente consapevole di tutte le grandi potenzialità e dicevo dobbiamo essere coraggiosi, innovare, ma anche essere umili e quindi imparare dalle altre esperienze. Penso alla esperienza britannica che abbiamo conosciuto del BIM Task Group e di altre esperienze e credo che io sono molto intenzionato a promuovere questo stesso tipo di esperienze nel mio ministero, in maniera che ci sia una propulsione evidente. Già alcune esperienze ci sono state, ci sono in corso, penso al proprio diritto delle opere pubbliche della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, che sta facendo qualche sperimentazione in questa direzione. Quindi grazie di questa giornata ci tenevo a dire che la riteniamo molto importante questa riflessione, che la seguiremo con attenzione, che il Codice fa una scelta precisa e che quindi credo che insieme daremo un contributo a una nuova stagione delle opere pubbliche in Italia.